Ringrazio il direttore del parco Sardazza perché ha preso un impegno per il Dessauro del Teatro Greco di Crea Minova e con questo concorso di progettazione oggi siamo qui a presentare il progetto di Gitori. Il restaurante del Teatro sarà una risorsa perché la Crea Minova non è una risorsa di cattolica, di cattolica, ma di tutto un territorio, di tutta la provincia, di un'intera nazione, perché ci sono tutti i mondiali che vengono, quindi dobbiamo cercare sempre di più di valorizzare questo territorio perché ora, specialmente con il Dessauro del Capitale della Cultura, la Crea Minova è la spalla della Valle dei Templi. Se noi dobbiamo tutti lavorare in sinergia, l'amministrazione comunale come si sa abbiamo lavorato perché abbiamo realizzato un percorso naturalistico che va dall'area archeologica alla voce del Prima dei Platini. Oggi ci sono i lavori in corso per la funzione e l'accessibilità all'esterno dell'area archeologica della Crea Minova, cioè i finanziamenti che ha lavorato il Comune in sinergia con il Deparco e con l'organizzazione della sovreddenza.